Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, è solo una la strada. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Ludovico Amfuso, questa è a te di Palermo, Futsal Latininers all'indietro per grammatica, ancora Pennino, scambio tra i due giovani. Palla in mezzo, grammatica, interessante grammatica! Mazzola coprebbe nel palo, la palla è fuori. Sta subito bene l'Atletico Labo Palermo in velocità, Giuliano, ancora Giuliano, sarà a lunga, ci arriva Giuliano. Ancora lì all'indietro, Tuzzolino, Tuzzolino! Ottima la parata qui di Barcellona e poi ancora Futsal Latininers che va. Ancora Mazzola, sull'esterno, pressione importante dell'Atletico Labo Palermo che può andare con strongoli, Mazzola! Ottimo il salvataggio, ancora L'Atletico Labo Palermo, chiedo scusa. Pennino punta Giuliano, Pennino lungolina Pennino in mezzo C'era l'api Ora Giuliano Giuliano può puntare, doppio passo Si gira, palla per Tuve Allo spazio, per tirare Palla in mezzo di Cara Era lì, a un centimetro davvero Dal tiro in porta Giuliano aspetta l'arrivo Di Fiorentino Fiorentino sulla sinistra, Fiorentino si sposta Prova il tiro, Barcellona Respinge, poi ancora Fiorentino, Giuliano Sola recupera, va in velocità con le mani Tuzzolino, Tuzzolino Lo punta molto bene Tuzzolino Tuzzolino ancora il tiro, Barcellona Sta parando, tutto Tu vai in contropiede, può andare Vallecchia la giocata Tuzzolino si ferma La tiene lì, Tuzzolino il tiro Esterno nella rete Ancora Giuliano Vallecchia La gira per Tuzzolino Giuliano si libera bene Tuzzolino la finta Il tiro Salvataggio di Pennino Bianco Giuliano La giocata Giuliano Giuliano Barcellona Barcellona Muratore Strongoli Centrale Vallecchia su Pennino Tutto sbagliato Ancora Vallecchia Vallecchia va sul sinistro Vallecchia Barcellona Tuve la tiene col tacco Bella giocata Tuzzolino la tiene ancora lì Col tacco Tuve Trava il gol E si sblocca Di club Palermo 1 a 0 Ha segnato Il numero 7 Francesco Tuve Di cara Di prima A memoria Tabita legge bene Azione Anticipa Recupera Fiorentino Brutto errore Per cui Pennino può andare Occasione per il futsalio di Niners Grammatica Mazzola Ancora Ottima La parata di Mazzola E poi la palla Tocca di sostegno Pennino Il tiro Mazzola Sicuro Con le mani Accelera Adesso Di club Palermo Con Vallecchia Vallecchia in velocità Non lo fermi più Vallecchia Antra Vallecchia Il tiro Sibile Palo Umberto Vallecchia Potrà toccare più Rinvio lungo Lapi Il controllo Favorevole Per Garofalo Che può gestire Garofalo largo Garofalo per l'Api Mazzola copre Poi l'Api Ancora si ritrova lì La palla si alza Lo bianco Giuliano Non la prende E c'è l'occasione Per le tira Sgrammatica Il tiro Mazzola Respinge Samuto largo Tuzzolino Occasione Tuzzolino Contropiede Con pazienza Per Tuvè Tuvè Palla in mezzo Tuzzolino Controllo Tuvè Palla alta Occasione sprecata Potrebbe essere il 2-0 47 secondi Attenzione Le T-Niles Anni Anni Ed è così Il gol del pareggio La dei campi Pallemolo ha tenuta Le T-Niles ci ha creduto Fino alla fine Negli ultimi secondi Fondi E c'è l'esultanza Hanno sfruttato Mazzamuto Palla lunga In anticipo Tuzzolino Una stop Attenzione T-Niles Può andare Annolino Mazzola Mazzola Che avanza Attenzione Mazzola Fallo L'ultima azione Davvero Succede tutto Giuliano Ancora Palla lunga Tuvè E fischia Ed è pareggio Ed è pareggio Adelic